Un calo importante dei pazienti terapia intensiva è il dato più significativo del nuovo report settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento dei contagi da Covid in Sardegna. Nel documento pubblicato oggi si legge che nell'isola, nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, i posti letto occupati dai pazienti affetti da coronavirus sono passati dal 22% del totale della settimana scorsa all'attuale 17%. Addirittura analizzando i dati elaborati da Agenas e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali relativi a ieri, 3 febbraio, i numeri sono ulteriormente calati, passando al 14% per le terapie intensive, dunque meno 3% in 24 ore e al 26% nei reparti non critici, dove la soglia limite è il 40%. Un bel balzo all'indietro dunque, dopo il 31% delle terapie intensive rilevato due settimane fa, che aveva sancito il passaggio della Sardegna da zona gialla a Arancione. Incoraggiano anche i dati relativi al numero di casi positivi, 927 nel periodo analizzato, mentre la settimana precedente erano stati 1025. Il lieve aumento invece è il rapporto casi positivi-casi testati, che sale dal 7,2% all'8%. E dopo la sentenza dei giorni scorsi del TAR, che ha confermato l'efficacia dell'ordinanza del Ministro della Salute, che ha fatto scattare due settimane di zona arancione nell'isola, l'attesa adesso è tutta per la relazione di domani, quando a Roma si deciderà se allentare di un grado le restrizioni nell'isola. Ma i numeri attuali fanno ben sperare.